Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo alla scoperta dei 10 migliori posti da visitare a Cayenne, la capitale della Guyana francese. Iniziamo la nostra avventura con il Meillot Cascade, una serie di cascate che si trovano a circa un'ora di auto dalla città. La vista è incredibile e potrete fare il bagno nelle acque cristalline delle cascate. Il secondo luogo che vi consiglio di visitare è il mercato di Cayenne, situato nel centro della città. Qui potrete acquistare frutta fresca, spezie esotiche e artigianato locale. È un'esperienza unica che non dovete perdere. Il terzo posto è la Cattedrale di San Salvatore, un'opera architettonica incredibile che si trova nel cuore della città. È un luogo di grande importanza storica e culturale per la Guyana francese. Il quarto posto è la spiaggia di Mont Jolie, una delle più belle spiagge della Guyana francese. Qui potrete rilassarvi, fare il bagno e godervi il sole. È anche un ottimo posto per praticare surf. Il quinto posto che vi consiglio di visitare è il Fort Se Peru, una fortezza costruita nel 1643 che offre una vista panoramica sulla città di Cayenne. Potrete godere di una vista spettacolare sulla città e sul fiume. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video sui migliori posti da visitare nel mondo. Il sesto posto è il Jardin Botanique, un giardino botanico con una grande varietà di piante tropicali e un'ampia varietà di animali esotici. Qui potrete immergervi nella natura e godere della bellezza del posto. Il settimo posto è il Centre Spazial Guyanais, il centro spaziale europeo situato vicino a Kourou, a circa un'ora di auto da Cayenne. È un'esperienza unica vedere i lanci di razzi e imparare di più sulla tecnologia spaziale. L'ottavo posto è il Musée départementale de Fanconi, un museo che espone la storia e la cultura della Guiana francese. È un luogo che vi permetterà di conoscere meglio la storia e la cultura del posto. Il nono posto è il Marché des Remirs Montjoli, un mercato situato a pochi chilometri da Cayenne. Qui potrete acquistare prodotti freschi come frutta, verdura e pesce. Infine, il decimo posto che vi consiglio di visitare è la Plage des Salines, una delle spiagge più belle della Guiana francese. Qui potrete godervi una giornata di relax al sole, fare il bagno e godervi la bellezza del posto. Questi sono i migliori dieci posti da visitare a Cayenne. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per pianificare il vostro prossimo viaggio in questa bellissima città. Vi ricordiamo di lasciare mi piace al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdervi nuovi posti meravigliosi da visitare. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video!